Buonasera, proseguono le indagini sulla Banca Carigie. Intanto è stata rigettata la richiesta di scarcerazione della nuora dell'ex presidente Giovanni Berneschi, mentre il figlio è stato sospeso da vice direttore del comparto assicurativo per violazione delle norme interne in tema di conflitto di interessi. Il giudice per le indagini preliminari, Adriana Petri, ha rigettato la richiesta di scarcerazione per Francesca Amisano, nuora di Giovanni Berneschi coinvolta nell'inchiesta sulla Banca Carigie. La donna, interrogata sabato scorso, è indagata per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Attualmente è detenuta nel carcere di Ponte Decimo. Per giovedì intanto è previsto l'interrogatorio del commercialista Andrea Vallebuona, mentre il 9 giugno dovrebbe essere il turno di Davide Enderlin, notaio ed imprenditore svizzero. Intanto il figlio di Giovanni Berneschi, Alberto, è stato sospeso dal suo incarico di vice direttore del comparto assicurativo. Questo perché affittando una sua casa alla compagnia che dirigeva, sono state violate le norme interne in tema di conflitto di interessi. Si terrà il prossimo 12 giugno l'udienza del Tribunale del Riesame che dovrà esaminare la richiesta di scarcerazione dell'ex ministro Claudio Scaiola arrestato per aver favorito la latitanza dell'ex deputato di Forza Italia Medeo Mataccena condannato a 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Scaiola si trova detenuto nel carcere di Regina Celi dallo scorso 8 maggio. Il giorno prima, l'11 giugno, è invece prevista l'udienza del Riesame nei confronti di Chiara Rizzo, la moglie del latitante Amedeo Mataccena. La donna, dopo essere stata estradata dalla Francia all'Italia tramite il valico di Ventimiglia, si trova ora in carcere a Reggio Calabria. Dopo il successo alle elezioni europee, il Partito Democratico Ligure è sempre più concentrato sulle elezioni regionali del prossimo anno. A insidiare la candidatura presidente dell'assessore Raffaella Paita potrebbero presentarsi alle primarie anche Francesca Balzani e l'assessore alla salute Claudio Montaldo. Da Montaldo è già arrivata una prima conferma in questo senso. Vediamo. Non l'escludo come non l'ho mai esclusa fin dall'inizio, fin da quando ho detto che sono disponibile e che però volevo che prima si facessero le europee, sono fatte, ho dato un grande risultato, ci rende più sereni, ora dobbiamo però confrontarci con i problemi. Io sono dell'opinione che dobbiamo appunto partire dalle idee, cosa penso io l'ho detto, se queste idee servono, se ci si riconoscono molte persone, poi vediamo come anche il mio contributo eventualmente può essere utile. Tanto una grande squadra ora è che mobiliti tutte le intelligenze possibili per costruire un programma e poi si vedrà, è chiaro che poi le squadre di governo hanno dei numeri contenuti, ma chi ci sarà a quel momento dovrà valutare le scelte più opportune. È evidente che bisognerà mettere insieme competenze, esperienza e anche entusiasmo di persone giovani che abbiano voglia di fare e di guardare al futuro, ma di interpretare anche questo bisogno di un punto di vista dei giovani, guardare la Liguria dal punto di vista dei giovani. Le caserme dei carabinieri di Badalucco e di Dolcedo a rischio a seguito dei tagli sono state al centro di una discussione in Consiglio regionale. Il dibattito è nato a seguito di alcune interpellanze, firmate tra gli altri anche dai consiglieri regionali ponentini Marco Scaiola ed Alessio Saso. La Regione si è presa l'impegno per trovare le soluzioni che meglio contemperino la presenza sul territorio, la sicurezza e l'esigenza di contenere i costi della pubblica amministrazione. Lunedì 9 giugno l'arma dei carabinieri festeggerà i 200 anni della sua fondazione. Nella caserma Somaschini di Imperia, sede del comando provinciale, si terrà una celebrazione a partire dalle ore 18 aperta alla cittadinanza. Intanto sui mezzi di servizio dei carabinieri è stato posto un logo che ricorda l'importante ricorrenza, come ha spiegato oggi il comandante provinciale imperiese, il colonnello Luciano Zarbano. Signor colonnello, lunedì 9 qui proprio nella caserma Somaschini dove ci troviamo oggi ci sarà la festa dell'arma dei carabinieri. Una festa importante perché ce lo ricorda anche un logo sui mezzi di servizio sono 200 anni che l'arma veglia sugli italiani. Sì, è giusto che questo compleanno di 200 anni sia festeggiato in materia degna. La festa sarà alle 18, ovviamente è aperta alla cittadinanza, a chi vuole venire. È una ricorrenza che bisogna festeggiare, anche perché è il modo migliore di rendere omaggio ai carabinieri caduti, al continuo sacrificio che i miriade dell'arma fanno nell'adempimento del dovere per la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini. Ricordando anche la diffusione dell'arma sul territorio, in tutti i territori, in provincia di Imperia e in particolare anche in quei paesi che rimarrebbero altrimenti senza nessuna presenza istituzionale o quasi. Sì, dobbiamo ricordarci che ben 15 presidi dell'arma in 15 comuni sono gli unici presidi delle forze polizia. È l'unica presenza dello Stato in quei comuni. Lunedì 9, ore 18, allora tutti insieme qui per festeggiare. Di bilanci magari ne parleremo in quell'occasione, per il momento ci accontentiamo di sapere che appunto si festeggiano 200 anni e si guarda al futuro. Certo, non voglio rovinare la sorpresa. Ci vedremo qua lunedì 9 alle 18. La direzione provinciale dell'Inps di Imperia comunica che a partire dal prossimo lunedì 9 giugno gli uffici della Commissione Medico-Legale di Imperia saranno trasferiti nei nuovi locali siti in via Sifredi sempre nel capoluogo. Nel periodo compreso fra martedì 3 giugno e venerdì 6 giugno durante i lavori del trasferimento degli uffici da Piazza Roma e via Sifredi gli utenti potranno rivolgersi presso gli sportelli di viale della rimembranza per la consegna di documenti o la richiesta di informazioni generiche. Dal 9 giugno l'ufficio medico-legale riaprirà regolarmente al pubblico in via Sifredi dalle ore 8.30 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. C'è anche il forte dell'Annunziata di Ventimiglia tra gli edifici storici della Liguria che saranno interessati da un finanziamento regionale di restauro nell'ambito di un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del territorio. Alla fortificazione della città di confine saranno destinati quasi 160 mila euro. Tra gli interventi cofinanziati riguardano in provincia di Imperia c'è poi quello relativo al restauro del bastione di Cervo per una spesa di oltre 85 mila euro. Sono in pieno svolgimento a Bordighera i lavori di sistemazione e adeguamento idraulico del Torrente Borghetto. Si tratta di un intervento reso necessario dopo l'alluvione del 2006 che costerà 6 milioni e 720 mila euro provenienti dai fondi del Ministero dell'Ambiente, regionali e anche comunali. I lavori iniziati nel giugno 2013 finiranno il prossimo dicembre e hanno lo scopo di risolvere definitivamente il rischio di esondazione del Torrente Borghetto nel tratto corrispondente agli ultimi 600 metri fino alla focce. L'opera riguarda l'allargamento della sezione di deflusso con lo spostamento degli argini in alcuni punti per garantire una larghezza superiore ai 10 metri e l'abbassamento dell'alveo in alcuni tratti con la conseguente ricostruzione degli argini e di alcuni ponti. Si è svolta con successo Sanremo l'ottava edizione della pedalata in sicurezza sulla pista ciclabile con i bambini e le famiglie. L'iniziativa è stata organizzata dalla Polizia Municipale della Città dei Fiori con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti alle regole della strada. Nell'ambito del progetto di educazione stradale domenica 1 giugno organizzata dalla Polizia Municipale si è svolta l'ottava edizione della pedalata in sicurezza. Il ritrovo per i partecipanti si è tenuto sul piazzale dietro l'ex stazione ferroviaria di Sanremo. Si è trattato di una passeggiata non agonistica che ha visto gli operatori del corpo di Polizia Municipale accompagnare i giovani ciclisti in tutta sicurezza sulla pista ciclabile. Sul piazzale è stato allestito un mini percorso così da permettere ai più piccolini di divertirsi in bicicletta o col triciclo, mettendo in pratica quanto imparato durante le lezioni a scuola. L'edizione di quest'anno si è inserita nel progetto Bim Bim Bici, manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente di cui Conad è sponsor a livello nazionale. Centinaia e centinaia di bambini accompagnati dai genitori hanno preso parte alla pedalata manifestazione che chiude la tre giorni alla sicurezza stradale ideata dal comando della Polizia Municipale. Per i piccoli ciclisti e vigili urbani è stata di sicuro una bella esperienza, un'opportunità per confrontarsi sulle regole acquisite a scuola durante le lezioni sul codice della strada. La pedalata infatti ha avuto come finalità oltre a quella ludica di insegnare bambini a giocare in completa sicurezza e soprattutto a rispettare le regole ed avere rispetto per la divisa. Il gemellaggio poi con la manifestazione nazionale ha contribuito ad arricchire la manifestazione. Entrambe le iniziative esprimono una parte importante dell'attività di educazione stradale del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo sia per le notevoli energie che richiedono nelle fasi di progettazione e di svolgimento sia per la grande affluenza dei partecipanti. La Polizia Municipale da 15 anni svolge attività di educazione stradale nelle scuole studiando progetti e idee sempre nuove per un maggiore coinvolgimento degli alunni. Alla fine della pedalata è stata offerta dal Conad una merenda a tutti i partecipanti. Da alcuni anni affiancano la Polizia Municipale in questi eventi l'Associazione Volontari Sanremo Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo, i Rangers d'Italia, Sezione di Sanremo e i Nonni Vigile. La loro attività è utile e preziosa sia per il Corpo di Polizia Municipale sia per i bambini che ritrovano in un differente contesto coloro che li hanno accompagnati già in altre occasioni. Sono state assegnate questa mattina quando ormai la stagione estiva sta iniziando le prime sette spiagge libere di Sanremo. Per quattro di queste sono stati confermati i precedenti gestori, mentre per tre è stato scelto un nuovo soggetto. Il grande ritardo è legato ai ricorsi e successive sentenze del TAR che hanno riguardato il bando di gara per l'assegnazione delle spiagge. Domani saranno aggiudicate altre due spiagge, quella dei Tre Ponti e quella di Bussana Ponente. Brutta avventura Sanremo per un uomo che probabilmente dopo essersi addormentato è rimasto chiuso per tutta la notte all'interno dei Giardini del Sole di Corso Cavallotti. Ad aprirgli il cancello sono stati i vigili del fuoco e la Polizia Municipale alle 5 di questa mattina, dopo che l'uomo si era anche ferito ad una mano, nel tentativo di scavalcare la recinzione. Lutto nel mondo dello sport è improvvisamente morto a Sanremo a seguito di un infarto Bruno Cattaneo, ex calciatore ed allenatore di formazioni giovanili, molto noto nell'ambiente calcistico dove per anni ha operato al fianco dei giovani. Numerosi messaggi di cordoglio giunti da tutte le società dove Cattaneo ha operato come allenatore. Ed ora facciamo una piccola pausa fra poco. Andiamo avanti. La ballata di Corinna di Lucia Genga è uno dei volumi presentati in occasione della Fiera del Libro di Imperia, il libro alla prefazione di Beppino Englaro che è stato ospite nei nostri studi. Vediamo. La ballata di Corinna di Lucia Genga è un libro che ha la prefazione di Beppino Englaro che volentieri ospitiamo qui in studio. Ecco, signor Englaro, una particolarità. Sappiamo che lei ha combattuto per il diritto a una morte dignitosa di sua figlia e la prefazione è un libro di una donna, tra l'altro scomparsa poco prima della pubblicazione, che ha combattuto per mettere in vita, per dare vita a sua figlia. Insomma, quasi un paradosso o no? Ma sono parole sue. Lei ha detto due storie tanto diverse e pur tanto simili. Perché tutte e due abbiamo combattuto perché le nostre figlie venissero rispettate per i loro convincimenti. Corinna voleva vivere, era forte, combattiva, voleva a tutti i costi vivere. L'Eluana, nella condizione nella quale era precipitata, avrebbe semplicemente detto, lascia che la morte accada. E quindi vi siete incontrati con la Genga ed è nato questo connubio, diciamo, una prefazione e poi, ahimè, la tragedia della scomparsa anche di madre e figlia. Sì, io ho conosciuto Lucia Genga una sola volta, ero a Spoleto, era la vita racconta dalle storie e la medicina. E guardi, è stato questo, lei mi ha avvicinato in una maniera molto semplice, molto corretta, molto cordiale, per dirmi che mi ha consegnato un libricino che era le poesie della figlia e anche due fogli dati lo scritti, perché voleva farmi capire appunto che questa vicenda era simile per certi aspetti e voleva a tutti i costi, o riteneva giusto, che la prefazione del suo libro, che io ho saputo dopo però che voleva scrivere un libro. Ecco, questo è da dire. Bisogna ricordare questo. Io una seconda volta, quando lei mi ha telefonato attraverso un suo amico che partecipava alla stessa associazione culturale chiaroscuro, allora ho saputo che lei scriveva un libro e che lei mi ha detto che ero la persona più indicata per la prefazione di questo libro. Questa è la seconda volta che ho parlato con lei dopo quell'incontro a Spoleto. E allora un libro che parla della storia di una madre, di una figlia, la prefazione di Beppino Anglaro, un libro sicuramente avvincente e a tratti commovente, lo possiamo dire. Senz'altro, c'è gioia, è chiaro, c'è anche la tragedia della vita, ma c'è gioia, c'è molta complicità fra madre e figlia e come si direbbe, inizia con una ballata, come anche il mio libro, che è un passo due fra la mamma e la figlia, fra Lucia e Corina, ma come scrive lei stessa alla fine, è un inno alla vita. Ieri sera nella libreria Ragazzi di Imperia è stato presentato il libro di Mario Castellano dedicato al primo anno di pontificato di Papa Francesco. L'autore, alla presenza dell'assessore Maria Teresa Parodi, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di un folto pubblico, ha ripercorso le tappe storiche che hanno portato all'elezione di Papa Bergoglio. Castellano ha tracciato anche un interessante quadro dell'evoluzione storica dell'America Latina per arrivare a spiegare le principali linee programmatiche del pontificato di Papa Francesco, a cominciare dalla particolare attenzione rivolta alle classi sociali più deboli. Al termine della presentazione del volume si è sviluppato un dibattito con il pubblico, che ha posto all'autore diverse domande per approfondire alcuni dei temi trattati durante la serata. E' arrivata questa mattina a Sanremo la nave da crociera Sebon Sojourn proveniente dalla Corsica. Per tutta la giornata la nave è rimasta in rada permettendo ai propri passeggeri di scendere a terra e visitare la città. La realtà degli arbitri di calcio della sezione di Imperia è stata al centro di una serata organizzata dal Panatron di Imperia Sanremo. All'incontro sono intervenuti anche l'arbitro internazionale Davide Massa, l'ex assistente di Serie A Maurizio Viazzi e il presidente Franco Cane. Durante la serata è stata così illustrata la figura dell'arbitro di calcio, importante anche come formazione umana dei ragazzi che affrontano questa attività. Ed ora andiamo a vedere com'è la situazione lungo l'autostrada dei fiori. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare ralentamenti al traffico sulla A10 nel tratto di competenza Savona-Confine di Stato da lunedì 2 a domenica 8 giugno. Nessun cantiere in direzione Francia-Careggiata Nord. Mentre in direzione Genova-Careggiata Sud, tra Andorra ed Albenga, riduzione della carreggiata da 2 ad 1 corsia per adeguamento delle barriere di sicurezza da martedì 3 a venerdì 6 solo diurno. Tra Feglini e Spotorno, riduzione della carreggiata da 2 ad 1 corsia per il rifacimento dei giunti del viadotto Barelli, da martedì 3 a venerdì 6 giugno anche notturno. Ed eccoci alle previsioni meteo a cura di Arpal Meteo Liguria. Domani giovedì 5 giugno fino al mattino, residua, instabilità con possibili isolati fenomeni temporaleschi più probabili sul centro Levante. Rapido ritorno a condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato già da metà giornata. Umidità sui valori medio-alti, venti al mattino deboli da sud a Levante, variabili altrove, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali con rinforzi fino a moderati dal pomeriggio. Mare, lento calo fino a generalmente mosso, solo localmente molto mosso. Dopodomani, venerdì 6 giugno, sole e più qualche nube. Umidità sui valori alti, venti deboli inizialmente dai quadranti orientali, dal pomeriggio di direzione variabile. Mare in ulteriore, calo fino a poco mosso. E' proprio tutto, grazie di essere stati con noi, arrivederci.